Autostile è azienda leader nel soccorso stradale leggero e pesante per Verona e provincia. Autostile dimostra la propria professionalità con l'ampliamento continuo del parco macchine e il rinnovamento tecnico provato dagli accordi con enti pubblici, privati e autostrade. Autostile è anche nuovo centro revisione veicoli fino a 35 quintali, quadricicli e quad. Autostile, a Pescantina, Pastrengo e Verona.